Ciao e benvenuto a questa videoserie completamente focalizzata sulle opzioni e sui premi OTM in particolare. Categoria che è più che particolare direi unica perché rispetto alle normali opzioni i premi OTM posseggono una speciale caratteristica in più, quella di avere una regolare quotazione e quindi un prezzo pur non possedendo nessun reale valore. Proprio così ogni giorno sui mercati ci sono centinaia di migliaia di operatori, dai più piccoli ai più grandi, disposti a pagare un prezzo per acquistare un diritto che non ha un reale valore. E grazie ai premi OTM potresti essere proprio tu ad incassare quel prezzo. Guarda questa immagine, allora qui abbiamo, vedi il sottostante è SPY, SPY, è un ETF, probabilmente lo conosci, che replica lo Standard & Poor's 500, è un sottostante che utilizzo molto molto spesso per i miei investimenti. Quindi qui abbiamo la prima riga che riguarda appunto SPY il sottostante, poi sotto vedi che sono due righe che riguardano in realtà le opzioni. Ho scelto un'opzione call, vedi strike 465, quindi il numero 465 è lo strike, vedi che al momento di questo screenshot lo SPY, il sottostante, stava battendo 426 dollari, ok? Io per comodità didattica ho scelto invece di farti vedere un'opzione call, call strike 465. Sotto ho inserito invece un'opzione di tipo put, vedi che c'è scritto put e prima di put c'è scritto 340. 340 anche in questo caso è lo strike, quindi in questo caso vedi che 340 è uno strike decisamente più basso, inferiore rispetto ai 426. Quindi abbiamo un'opzione call a strike 465 che è decisamente superiore rispetto al prezzo del sottostante in quel momento di 426 dollari. E invece, sempre nell'esempio, la terza riga è un'opzione put con strike 340 che è un valore chiaramente decisamente inferiore rispetto ai 426 dollari sempre di quotazione del sottostante. Quindi le azioni sono strumenti più adatti a chi si accontenta di avere una conoscenza di base, chiamiamola così, in campo finanziario, non vuole andare oltre. Ha compreso le azioni, ha compreso il loro funzionamento, è contento così e quindi, diciamo, si prende il bello e il brutto di questo strumento finanziario. Ancora, le azioni sono adatte per chi preferisce investire su un lungo, lunghissimo periodo, i classici cassettisti. Come ti dicevo, costruiamo un giardinetto di titoli, li selezioniamo, li mettiamo nel cassetto e poi magari dopo qualche anno vediamo cosa è successo, sperando di non incappare ovviamente in un mercato ribassista o in un mercato laterale. Ancora, le azioni sono adatte a chi vuole prendere poche decisioni di investimento e poi appunto non pensarci più. Infine, sono adatte per chi non ha tempo e voglia di valutare metodi di investimento più sofisticati che possono dare, sì, maggiori risultati, ma che chiaramente presuppongono un maggior impegno, soprattutto iniziale, per avere le necessarie competenze per poterli utilizzare al meglio. Andiamo a vedere invece le opzioni. Se usate nella maniera corretta sono per chi, per chi vuole accrescere la propria istruzione finanziaria imparando appunto l'utilizzo di uno strumento assolutamente avanzato. Sono adatte per chi vuole gestire attivamente e in prima persona il proprio capitale, per chi non si spaventa magari un'ora o due la settimana di controllare l'andamento dei propri investimenti, aprire il computer, guardare la piattaforma e controllare che tutto stia andando per il meglio. Ancora, sono adatte per chi non vuole dipendere totalmente dai movimenti di mercato, proprio perché avendo a disposizione diversi strike possiamo anche decidere, lo vedremo, di investire lontano dal prezzo in quel momento di mercato e quindi di essere meno legati a quello che fa o farà il sottostante. Sono adatte a chi vuole investire in maniera strategica e sulla base delle probabilità, quindi non sulla base di ma per me questa azione vale molto di più, il mercato la sta sottovalutando, crescerà di prezzo e quindi la compro. No, i motivi alla base di scelte strategiche riguardanti le opzioni molto spesso si rifanno a statistica e probabilità, quindi a numeri, quindi a decisioni oggettive. Ancora le opzioni sono adatte a chi preferisce operare su periodi temporali di mesi invece che di anni, quindi da una parte possiamo avere il cassettista quindi che ha un time frame, un periodo di investimento di anni e anni, dall'altra l'opzionista che può avere invece una gestione più attiva, più dinamica del portafoglio e quindi avere tempi medi di durata dell'operazione di mesi. Questo è un payoff, cioè un grafico che ti fa vedere i possibili guadagni o le possibili perdite di questa strategia di acquisto call. Vedi che abbiamo ipotizzato appunto un'opzione su SPY, sempre la scadenza che abbiamo visto in precedenza, quindi quella del 18 novembre 2022, lo strike in questo caso è 420, quindi è una call con strike 420. Vedi che sotto nel grafico vedi che sotto ha il prezzo del sottostante, quindi man mano che il prezzo sale da 425, 450, 475, 500, vedi che sulla destra abbiamo i possibili profitti. Abbiamo l'asse dello zero, ok? Sotto lo zero abbiamo perdite, sopra lo zero abbiamo guadagni e vedi che più chiaramente il sottostante, in questo caso l'etf SPY, sale di prezzo più il grafico sulla colonna di destra sale, perché vuol dire che aumentano i profitti. Al contrario vedi che scendendo di prezzo, quindi ipotizzando un prezzo di 400 dollari, 375, 350, quindi prezzi inferiori al prezzo di SPY in questo momento, quando ho fatto questo screenshot di 420, vedi che scendendo il prezzo andiamo invece nella parte delle perdite, ok? Quindi la parte del grafico sotto lo zero è la parte di perdita e appunto questa perdita si verifica in caso di movimenti ribassisti del sottostante, in questo caso SPY. Vedi ancora i numeri sotto, sono i vari scenari di mercato, quindi abbiamo ipotizzato un aumento del 10%, quindi vedi il profit and loss che dal prezzo di quest'opzione di 1964 dollari, vedi che in caso di aumento del sottostante il prezzo va a 2942 dollari, aumento del 10%, poi c'è anche l'aumento del 20% in simulata e l'aumento del 30%. Invece nella parte sinistra vedi una diminuzione del 10% del prezzo, una diminuzione del 20% e una diminuzione del 30%. La cosa interessante di questo grafico è che abbiamo la parte delle perdite che comunque vedi che è fissa, cioè a un certo punto questa perdita si stoppa, il grafico rimane orizzontale, perché? Perché come ti dicevo tutto quello che io posso perdere è il capitale che ho investito in questa operazione, quindi l'acquisto call come in generale l'acquisto delle opzioni ha diciamo uno stop loss chiamiamolo così naturale che è la perdita completa del capitale. Allora azione Netflix, prezzo dell'azione nel momento dello screenshot 250 dollari virgola 85, ok? Vedi che ti ho messo tre opzioni su questa azione, quindi sul sottostante Netflix il ticker NFLX. 245 dollari, vedi che abbiamo un'opzione, in questo caso parliamo di opzioni call, quindi sono tutte e tre vedi opzioni call. La 245 dollari, essendo il prezzo dello strike, 245, seguimi bene, inferiore rispetto ai 250,85 di prezzo di mercato del sottostante, vuol dire che parliamo di un'opzione call in the money, che ha valore intrinseco più valore tempo. Perché è in the money? Perché io sto acquistando sul mercato la possibilità, il diritto di acquistare Netflix a 245 dollari, quindi al prezzo dello strike. E questo valore chiaramente, questa possibilità ha un valore intrinseco. Perché? Perché sul mercato Netflix vale 250,85 dollari, ok? Quindi sul mercato 250,85... Qui per farti un esempio ti ho messo la tabella delle opzioni riferita al titolo Apple, vedi AAPL il ticker, la scadenza è sempre quella di novembre, vedi che per esempio stiamo sulla colonnina delle call, per le opzioni strike 170, vedi il prezzo bid e ask tra i 12 e i 12,10, quindi moltiplicato per 100 tra i 1200 e i 1210 dollari. Quello è il prezzo e il costo appunto di questa opzione quindi è il capitale che deve avere sul conto nel caso appunto volessi comprare, al momento dello screenshot avessi voluto comprare un'opzione call, strike 170 su Apple, scadenza 18 novembre 2022. Poi chiaramente in questo esempio vedi anche altri prezzi riferiti ad altri strike, oppure se ti sposti sulla colonna a destra vedi i prezzi riferiti alle opzioni put. Qui ti ho fatto un paio di screenshot, vedi in questo caso su questa vendita di opzioni c'è stato un incasso di 410 dollari a fronte di un margine di 4396 dollari, quindi nel caso questo investimento finisse a buon fine, quindi queste opzioni vendute o otm alla fine vanno effettivamente, rimangono otm e quindi scadono senza valore, allora quell'incasso che ho fatto diventa definitivo, incamero definitivamente i 410 dollari, quindi il mio ritorno sull'operazione sarà in questo caso del 9,3%, cioè 0,093 che è il risultato di 410 dollari diviso 4396 per cento, quindi 9,3%. Altro esempio, in questo caso si vende un premio a 560 dollari a fronte di un margine richiesto di 2555 dollari, quindi incasso 560, per incassare 560 dollari devo congelare, devo tenere fermi 2555 dollari, devo dirti anche che mi ha fatto molto piacere realizzare questi contenuti e spero che siano stati toccati argomenti interessanti per te e che soprattutto tu ne abbia tratto un concreto beneficio. Ti ringrazio quindi dell'attenzione che mi hai voluto dedicare e ti do appuntamento ai prossimi materiali.